Ciao a tutti genio, sono Mario G10 e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo pre-partita in questo nuovissimo intanto video vlog qua sul mio canale ma anche in questo nuovissimo pre-partita, vi raccomando prima di iniziare con il video non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella che è molto, ma molto importante allora ragazzi, purtroppo ci tengo a darvi una brutta notizia brutta, vabbè, una notizia ecco, non sono usciti le designazioni arbitrali sul sito facebook del Trapani siccome io quando faccio pre-partita, ogni volta vi metto la foto, così che voi ve le possiate leggere appunto le designazioni arbitrali stavolta non sono uscite, quindi non ve le potrò fare vedere allora ragazzi questa partita, gelbison-Trapani il recupero se non sbaglio della sedicesima giornata che si sarebbe dovuta disputare il 12 di dicembre ma che poi è stata rinviata per covid da parte della squadra rosso-blu ovvero della gelbison capodista ragazzi che appunto affronta un Trapani che si trova al 14esimo a meno due punti dalla zona play-out ricordiamo che anche se questa partita possa sembrare diciamo scontata perché comunque è una gelbison che in questo momento sta veramente in formissima e che ragazzi a parte che vabbè non è che sta proprio in forma però diciamo a parte le ultime due partite che ha pareggiato con la Mezza e San Luca tutte le altre l'ha vinta e dicevo ragazzi comunque la gelbison ha perso da uno contro la San Catalese al ritorno dal covid quindi chissà se il Trapani magari mercoledì possa fare una sorpresa alla gelbison e magari vincerci però ragazzi con una squadra che non riesce a vincere che si fa rimontare 2.0 da un Santa Maria Cilento va bene che sono noni però ragazzi dai chi sono il Santa Maria Cilento al confronto del Trapani non sono mai stati in serie B forse hanno fatto qualche serie C non lo so neanche ragazzi comunque mercoledì a parte gelbison Trapani alle ore 2.30 ci saranno anche Gerri Bianca Villa sempre allo stesso orario Portici Castrovilla sempre allo stesso orario e Santa Maria Cilento San Luca le diciamo tutte queste tre partite a noi diciamo ci interessano perché Gerri Bianca Villa sono in zona play out il Portici che è comunque in quella zona media della classifica affronta il Castrovilla che è vicino al Trapani e il Santa Maria Cilento che non affronta il San Luca che è in quella zona media dove c'è il Trapani quindi sono tutte tre partite nella zona di classifica nella quale si trova il Trapani prima ragazzi vi dicevo che il Trapani magari potrebbe fare la sorpresa alla Gelbison allora il Trapani affronta una Gelbison che ha 51 punti a meno uno da Cavesa Cireale che sono seconda e terza comunque a pari punti ecco il Trapani comunque ragazzi ricordiamo che ha battuto un Lamezia Terme il 19 dicembre che era secondo stiamo parlando di un Lamezia Terme che ha meno due punti dalla prima alla Gelbison quindi se il Trapani in quel periodo che era veramente in forma ha battuto il Lamezia Terme ragazzi che era insomma in trasferta è una delle squadre se andiamo a vedere anzi non è una è la prima squadra in trasferta insomma ha fatto 29 punti in trasferta e che il Trapani in casa che Lamezia era in trasferta si è riuscito a vincere per 2-0 il 19 dicembre contro allora la seconda perché Lamezia era seconda con prima la Cireale che ora è terza perché non potrebbe vincere anche contro una Gelbison c'è da dire che ragazzi rispetto al ritorno in campo con Città Novesa Cireale e Rende il Trapani contro il Sant'Avricidente ha giocato decisamente meglio ragazzi a parte che si è fatto recuperare il primo tempo sembrava di vedere un Trapani proprio come lo era prima dello stop forzato per il Covid sembrava un Trapani molto compatto molto insomma una vera e propria squadra cosa che non era stata nella trasferta di Cireale e Rende nella prima partita in casa dopo la pausa contro la Cittanovese appunto ragazzi la Città e la Gelbison prima affronterà il Trapani il 14esimo il Trapani che avrebbe potuto vincere a Santa Maria di Cilento avrebbe anche sarebbe potuto andare a 27 punti invece che accontentarsi di un pareggio che momentaneamente vede il Trapani a 25 punti se il Trapani avesse vinto sarebbe stata in una posizione più avanti e se il Trapani insomma avesse vinto anche contro il Bison già sarebbe a 30 punti che significherebbe la decima posizione momentaneamente occupata dal San Luca quindi ragazzi cioè ripeto la Santa Maria Cilento nono al Trapani sono 6 punti ragazzi quindi dalla nona alla quattordicesima posizione sono solamente 6 punti quindi il campionato il Trapani non credo che arrivi più di una nona posizione anche perché l'ottava è occupata da un signor Licata che non si fa battere facilmente Licata che il Trapani affronterà ragazzi non mi ricordo esattamente quando vediamo se lo trovo vabbè ancora c'è un po' di tempo il Trapani in Licata lo affronterà il 14 di aprile quindi ancora c'è un bel po' di tempo però ragazzi il Licata non è una squadra che ci fa facilmente superare il Trapani in trasferta con Licata ci ha perso 3-1 con un'ottima partita era la seconda di Morgia la prima in trasferta e quindi ragazzi secondo me il Trapani oramai c'è senza secondo me punta a salvarsi il massimo che può arrivare è una decima nona posizione il minimo spero sia una quattordicesima e spero che il Trapani a maggio a giugno non faccia play out per ecco una salvezza al pelo anche se comunque il Trapani sarebbe ridicolo se poi andasse play out magari ci perdesse pure andasse in eccellenza sarebbe veramente un qualcosa di ridicolo quindi speriamo che almeno il Trapani quest'anno si salvi il prossimo anno magari con una società migliore che comunque ringraziamo per aver dato rinascita al Trapani ma comunque con una società giocatori neanche perché comunque i giocatori sono buoni c'è da fare sicuramente qualche ritocco insomma l'anno prossimo il Trapani possa più presto se non l'anno prossimo entro due anni ritornare in C nel girone C perché ragazzi questa serie di non ci piace ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto vi raccomando se fosse così lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale noi ci rivediamo ad un prossimo video ciao